Due campi da padel, uno skate park, un angolo giochi per i bimbi, tanto verde. È il progetto pensato dal comune di Lavagna per riqualificare la sovrappiastra del porto, un'area di fatto abbandonata, scollegata dalla città e sconosciuta ai più. L'amministrazione vuole rivitalizzarla partecipando a un bando sulla rigenerazione urbana finanziato dal Ministero dell'Interno. Giochi, dunque, sport, nuove luci e alberature, un lungo pergolato per riparare dal sole, un sistema di collegamenti viari verso il centro. L'opera prevede infatti anche la risistemazione urbana del lungo tratto di Via dei Devoto. Avere un lungomare riqualificato in tutti i suoi aspetti è il sogno che anima la giunta. Oggi la riteniamo come purtroppo è un po' triste, un po' grigia, un po' distante dalla cittadina, dal centro cittadino, mentre invece è un posto splendido che va valorizzato, anche senza interventi particolarmente rilevanti, ma creando forme di aggregazione, partendo quindi da insediamenti commerciali che quindi consentano di attrarre le persone che vogliono frequentare e godere effettivamente di una vista splendida. Il bando scade a fine aprile. L'amministrazione è pronta a presentare il progetto. Il sindaco si dice fiducioso in quanto sembra esserci un occhio di riguardo per i comuni più disagiati. L'opera costa 5 milioni di euro. Il progetto prevede anche un collegamento tra la fine di Via dei Devoto e la focce dell'Entella con la ciclabile che porta a Cogorno. La partecipazione al bando avviene infatti insieme al vicino comune. La nostra mobilità dolce, nei momenti in cui può avere delle permeabilità verso Via Fieschi e la continuazione sulla strada a Cogorno, può ritrovare una rigenerazione degli spazi che stanno a Monte dell'Entella attraverso questa qualità.